Da una posizione privilegiata abbraccia il golfo e le comunità, un'apertura fisica che la parrocchia di San Michele di Pagana da qualche tempo sta riscoprendo come missione pastorale. Per la festa del Santo il Vescovo ha proprio ricordato una delle linee guida dell'Assemblea Sinodale, la comunione fraterna come testimonianza del Vangelo. Nessuno di noi è autorizzato a chiudersi su se stesso, che è un pericolo molto attuale. Le nostre comunità spesso cadono in questa tentazione di autonomia, di distacco dagli altri, di presa di pensione addirittura nei confronti di altre comunità cristiane. L'invito ad aprirsi è un percorso che per i fedeli di San Michele di Pagana è già iniziato con risultati che fanno sperare. Abbiamo aperto le porte della chiesa e ci sono le persone che hanno desiderio di aprirsi e quindi vengono qui a tenere la chiesa aperta. È il nostro primo modo per incominciare ad aprirci. La messa è stata animata dal coro, formato da parrocchiani appassionati, una ventina, che negli ultimi mesi hanno messo il loro entusiasmo a disposizione della comunità. E questa è la cosa che più mi piace dire, che nonostante la fatica e chi può e chi non può, c'è molta unione. In questo momento siamo molto felici perché il risultato c'è stato. Oggi è stata una bella festa. E poi ci sono i bimbi come Andrea che danno una mano a Don Zanandreis. Da quanto tempo vieni qui? Da un anno e faccio il grichetto. La chiesa intanto recupera l'antica luce. Quest'anno sono state restaurate tre opere del Maragliano e una di Bernardo Castello. Lavoro in corso per la pala ad altare del grechetto, copia dell'adorazione dei pastori. Altre opere si stanno impostando dei preventivi per la facciata, per le parti esterne della chiesa. E successivamente si penserà anche al giardino per farne un luogo di accoglienza anche per le altre realtà locali.